buongiornissimo benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo qui per esplorare un'azienda abbandonata che ovviamente si trova sarebbe a Sala Brunais però in realtà è Osteria Nuova perché lì davanti cerca l'Osteria Nuova quindi andremo a visitare un'azienda l'azienda abbandonata di Osteria Nuova vi dirò un po' più nel dettaglio appena arriva Viaggio andiamo fuori il buon vecchio Xiaomi che mi devo spostare l'Aprilia vadi vadi Viaggio vadi vadi ragazzi ci vediamo lì dai cazzo pedala dai ragazzi abbiamo appena legato i monopattini qua in maniera molto rigorosamente elegante e l'azienda sarebbe questa qui Arnaldo non riesco a leggerlo Arnaldo Forni Editore questa qua dicevo Viaggio vieni qua raccontiamo quello che era questa azienda è un'azienda che praticamente è nata attorno agli anni 70 mi sembra del 75 se non erro tra il 65 e il 75 e fu chiusa nel 2013 era un'azienda che produceva libri e ha chiuso poi c'è poca informazione però da quel che sembra ha chiuso tipo per insomma cordione ottimale che ne ha prevenuto insomma la chiusura entriamo entriamo bravi proviamo vai onna mia procedere ecco ho fatto una brutta scelta allora eh Viaggio si perché ti si attaccano a questo per me non è un problema perché i pattoloni lunghi più che altro per te no ma non fa niente tra l'altro da quel che si vocifera ci hanno già beccato appunto insomma persone che ci abitavano tutte queste cose bellissime insomma bene che è lento lei mannaggia vi lo giuro rega che mi sto cagando addosso comunque non sto scherzando mi sto cagando addosso venghi venghi ecco già c'è una bottiglia qui bene ma non benissimo ma ci sono un po' di spine eh vabbè ma è così Viaggio non sto scherzando giuro che l'ho fatto io una volta al campo volo tirati giuro i pantaloni cioè se non ti filmo chiaramente però non sto scherzando funziona giuro non è una cagata no 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 non sto rega giuro sembra una cagata funziona veramente pensa che di là c'era la ghiaia da come si vede se vai su maps nelle foto attorno al 2008 c'era la ghiaia cioè pensiamo a te come è ridotto adesso ecco ah ah madonna mia bene adesso dobbiamo trovare un modo per entrare il popene questo vai 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 aspetta aspetta te lo butto giù io aspetta ok vai minchia madonna mia è proprio con le scale guarda senti che fa il pincchio come viaggio ci sono ragazzi posto ecco qua la zona che sa per crollare no di vetri no poi quell'asse di legno ma se mai viaggio io mi sto cagando sotto comunque insomma io la prendiamo ora se mai oddio oddio che schifo si si va tranquillo che non trova la sua roba no no mola regge regge aspetta aspetta vai prima io poi te vai no viaggio aiuto vieni 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 oh io non ci vado da solo la in fondo c'è mi scema cioè guardiamo qua come è ridotto già qua c'è un materasso qua tutti i vecchi documenti cos'è una tv un pilo un pc questo assurdo viaggio guarda tutte vecchie fatture penso di un paolo via toscana per me qua ti dico anche perché una volta questa zona qui c'è questa zona questo posto una volta c'è uno beccato dalla gente che spacciava proprio insomma non andrò mai in galera tutti i libri oddio buono ragazzi c'è qualcuno c'è qualcuno stiamo solo esplorando eh non vogliamo fare niente c'è qualcuno ok guarda uffici ma so c'è ragazzi eh c'è anche il cesso andiamo nel cesso qua c'è una sedia cos'è questo l'american liberty direction con che il mio inglese è perfetto allora continuiamo c'è qualcuno? ah giusto il cesso beh che dire non c'è molto a dire sul cesso il cesso non c'è va? vabbè direi di no il bagno impredisabili forse? no no non lo so vediamo ma questa di che anno è? cosa? questa ma che anno è stata fondata o quando è stata chiusa? no quando è stata fondata fondata nel mille attorno oddio la ragnatela è figa attorno fare torcia qui di biagio attorno agli anni 70 tipo 75 se non dovrei sbagliarmi sì comunque attorno a quegli anni lì bello però ma si vocifera che ci vivono di notte ma che cazzo bello bello bellissimo oddio guarda sì 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 comunque mamma mia qua sono dei testi musicali comunque pensa viaggio fa paura che comunque eh era per me era un vetro lì comunque viaggio lì comunque ci vede l'azienda eh ci vede un po' l'azienda qui c'è una ah di là adesso poi andiamo anche lì questi sono gli uffici viaggio ehi vabbè oh madonna minchia guarda antifascista vabbè antifascista abbreviato sempre oddio ecco biaggio ecco guarda vieni qua madonna intanto qua crolla tutto qua palese che uno ci dorme ma palese sì gli è palese che uno ci dorme allora per andare di là c'è qualcuno lì viaggio no no madonna mia ah vedi viaggio lì c'è la porta comunque sì fa veramente paura adesso poi andiamo anche qua sotto oddio che cazzo è oddio viaggio oh viaggio minchia punta la torcia lì c'è un letto non è che c'è qualcuno vero no entriamo viaggio no no aspetta aspetta madonna mia fa paura punta la torcia qui viaggio vieni qua madonna mia fa paura qua una porta che però no vabbè non aprirla ah bene no no questa è come cazzo facciamo ad aprirla sono i vicini no no sono vicini questa era una cucina vien giù comunque la prima volta che esploro un posto così abbandonato ci sono già esplorato ma non mi sono dettagliato sì sì ok punti pure la torcia punti pure la torcia qui 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 che macchinare cosa e la miseria di dio sarà una stampa ah probabile parca troia bello eh urmo eh eh non si vede vabbè ecco questo era il magazzino direi più devastato dall'altra volta eh quando sono venuto più devastato più devastato guarda mo arnaldo ferrioli di torre sala bolognese eh quindi queste qua come copertina avevano tipo un rinoceronte bellissimo oh merda mi sono cagato addosso viaggio cioè questo qua insomma era fissato con i rinoceronti alla fine oh c'è un giornale vediamo di che anno è vediamo di che anno è come si legge come si vede che anno è viaggio mia c'è Saddamu 6 ancora qua vecchissimo sto giornale che c'è una data vecchissimo 2005 2005 eh 2005 Siterraneo no o sarà del 2000 qualcosa vecchissimo vediamo qua vediamo qua quando è che è chiuso questo? nel nel 2013 chi è chiuso? Italia Romania guarda mo guarda mo registratore ideale dall'88 all'89 tour vecchissime si può dire mamma mia prendiamo vediamo così dett'arma ah che vetro comunque te lo giuro viaggio che fa paura te lo giuro quella parte lì fa paura ma anche qua questi magazzini qua vabbè no lì no perché c'è la luce mi riesco a vedere mamma mia si è quello di prima no lì guarda mo è pazzo eh ma che cazzo si guarda quale hanno lasciato apposta io non ci credo che non che cazzo bello madonna mia cosa c'è là dentro voglio vedere si 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 no è un tavolino è un tavolino quasi torna su dove erano prima vero mi sa di sì c'è qualcuno c'è qualcuno no sembra niente sembra niente oh anche qui viaggio aspetta che c'è qualcuno ah viaggio qua c'è un'altra cucina mi sa eh sì ah questo è tutto dove si cambiavano per me oddio viaggio vieni a vedere ah tutte le docce sì eh le docce non ci so minchia eh apri si apri la paura oh urinatoia anche bello occhio chiudere la paura vabbè altro armadietto penso ah per le donne può essere o per il titolare magari ah può anche essere eh guarda qui i muschi eh i muschi i muschi vabbè cioè guarda ma ma dio buono ragazzi comunque fa paura vedere come è ridotta sta azienda ah cazzo da quelli lì penso le vecchie stampanti poi sì veramente tutti qua anche tutti i vecchi i vecchi poster mamma mia fa paura di come è ridotto sto posto un calabrone oh guarda qui oddio questa cos'era secondo te quindi un'altra stampa può essere io buono il calabrone che cazzo qua c'è un gioco per bimbi invece tipo le capagne quelle robe lì fondi per lo studio della popolazione vabbè fino a 800 ecco un altro eh ma no questo questo è stato io mamma mia ragazzi fa veramente paura comunque come è ridotta sta azienda ecco qua ci starebbe bellissimo fare un volo qua col drone tutto all'aperto no gli insetti gli insetti speriamo biaggio sì sì ma guarda qui biaggio questo era tipo deposito guarda che ci sono qua tipo tutti le vecchie videocassette incredibile mamma mia fa veramente paura madonna oh oh madonna aiuto c'è una puzza di abbandonato qua minchia ragazzi sì poi si vede che sto posto tocca un computer proprio scassato come si deve minchia ti immagino no ma guarda che peccato guarda lì come è detto con la macchina minchia sì poi c'è si vede che comunque guarda anche qua vecchie foto guarda c'è un calendario del 95 viaggio sì ci sono ancora le stampanti l'inimo 88 no arca troia minchia ok dai direi che bene o male l'abbiamo vista tutto dai bene o male sì dai direi che possiamo uscire bene bene qua lo lasciamo qua per la prossima volta esatto so mai ebbe è domenica aperto quindi non lo so ah non lo so perché oggi è che giorno è oggi venerdì 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 è chiuso siamo arrivati qua è chiuso beh com'è c'era che entrare beh chiarega ci sono i carabinieri qua porca putt non è per noi sia chiaro perché hanno appena trovato la macchina però però ho fatto stare che comunque ci sono cioè si vedono uscire e dice che cazzo ci fanno questi qua niente che sfighe ma chiuso cioè porca puttana proprio adesso i carabinieri cioè adesso non è che loro stanno facendo il posto di blocco è normalissimo però se ci vedono uscire da questa azienda dicono che cazzo fate qui facciamo il giro eh no ma Biagio è chiuso Biagio è chiuso si è il cazzo aperto ma che schifo Dio Bono eh si è il cazzo aperto Biagio perfetto guarda posto mi ha vaffanculo cioè noi abbiamo fatto tutto siamo impazziti bastava far così bastava entrare da qui bene ottimo no andiamo via da qua che ci sono i Vesponi aspetta andiamo via fermo c'è un Vespone lì sti cazzo del Vespone spero che questo vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace eh lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale col tasto se non sono iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao